Ciao, ciao Becca, ciao, il pendolino ha funzionato. Non si sente niente Marcello, inutile che parli. Si sente, si sente. Dai Marcello, domani fuori voi, oggi fuori l'Inter. E vabbè, noi vediamo. L'Inter oggi, stasera, l'avevo detto subito quando sono entrato, che non vinceva. Sì, sì. E infatti si è verificato. E sai per quello hai detto che Milan vince facile a Empoli. Dico bene? Sì, sì. Il scatto nero è in forma stasera. Vince facile. Oh, Leao, sbaglia un gol. Artinacci. Occasione da gol, divorata da Raffa Leao solo davanti al portiere dell'Empoli. Grandissima occasione da gol per il Milan. Leao, salta l'uomo come un ruolo. Sulla sinistra, entra in aria dalla sinistra. La sinistra, arrivi a rientrare. Eccolo. Salemacher, no! Leao, splendida azione, poi apre in aria per lo smarcato Salemacher, che prova con un raso terra in diagonale, ma non inquadra la porta. Altra palla gol per il Milan. Donali, in verticale. Ecco. Cidu. Cidu. Leao, Leao, Leao. No! Leao! 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 Recupera la palla. Leao, ancora lui. Leao, tiro! Palo. Deviazione, palo. L'allungata troppo, no? La sinistra. Satriano. Satriano, prova il tiro. Oh, cane, ragazzi. Sto facendo il tiro adesso. Eh, adesso Lempoli si è reso molto più pericoso in questo secondo tempo. Tre tiri verso la porta di Tatarusano. Ancora zero da parte del Milan e siamo soltanto al nono del secondo tempo. Giroud, traversa. La traversa di Olivier Giroud su calcio di punizione. Bello il sinistro del francese. Traversa, parte alta, pizzicata appena appena. Oh, Tonari, deviazione. Si distende Vicario e devia. Grande parata di Vicario. Il miracolo di Vicario. Punizione deviata da un giocatore dell'Empoli. Era completamente spiazzato, prodigioso come un gatto Vicario. Vincario è in serata oggi. Bravissimo, Vicario. Fatevi parate un po'. Leao nel secondo tempo un po' sparito. E' un po' troppo, cosa dici Marcello? E' un po' sparito nel secondo tempo Leao. Quei poco. Leao. Leao. Eccolo. Eccolo. Fuorigioco. 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 Che fuorigioco. Ante, 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 Ante Ovviamente, come sapete, sulla rimessa laterale il fuorigioco non c'è e Leao ne approfitta alla grande, arrivando in porta e servendo un pallone perfetto per Ante Rebic. Eh, vedi, abbiamo chiamato Leao e ha risposto immediatamente la faccia. Ci ha voluto zittire perché sapeva che lo stavamo pungolando, vedi? 87-24, 1-0 per i rossoneri. Diaz! Mannaggia, un'assassata fil di palo. Oh, ma è sempre colpa del portiere. Dai, dai, dai! Goal! 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 Goal, fratello! Ballo Turea 94, Ballo Turea! Ballo Turea! Adesso, criticate il Gato, il Gato, il Gato, il Gato, il Gato! Il Gato, il Gato meno! Mancello, ma allora sei giornalista o indovino? Cosa sei? Non capiamo più! della serata io a un certo punto della serata ho detto questa è la partita che la vince al novantesimo forse anche io ti ho dato fiducia Chirico senti adesso dacci i numeri e giochiamo insieme il Super Enalotto io ve l'avevo detto ve l'avevo detto ballò 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 c'è spazio c'è spazio ha fatto ancora è dei gol 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 le hao le hao le hao meravigliau le hao le hao le hao meravigliau Leao, 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 meravigliau Una cavalcata Cioè io cosa vi ho detto Ma io cosa vi ho detto prima Adesso se dura due minuti in più Fanno il terzo Sai che mi spaventi Marcello